Sono le ore 17 di venerdì 24 agosto e diamo il via alle operazioni di smontaggio dei ponteggi dell'Accademia. Buon lavoro a tutti, via! È sabato 25 agosto, sono le 6.30 di mattina e noi ce l'abbiamo fatta. Una grande vittoria di tutto il team Euroedile. Grazie all'ingegnere Alessandro Zanatta, grazie al geometra Daniele Crosato, grazie a tutti i miei ragazzi. Questa è una grande vittoria per la città di Venezia.